Devo dirlo, l'intro con questa musica è una pura figata Allora ragazzi, buon 2012! Allora, iniziamo con pubblicità, pubblicità e pubblicità Ringrazio The Crazy Fabio per l'intro che mi ha creato Descrizione, ovviamente, il suo canale Ovviamente io non posso mai deludere, infatti è un regalino Vi beccate una pubblicità gratuita da parte mia, ovviamente Ok, allora, discutiamo un po' di quello che devo dire Allora, ci sono tre cose che devo dirvi Prima cosa, la voce mi è tornata, però ho l'influenza Sto tossendo a manetta, sono una mitraiatrice di tosse Si può dire una cosa del genere, mitraiatrice di tosse Non vuol dire un cazzo, ma non importa Come avete notato avrò riattenuta la mia simpatia Visto che sto meglio, posso anche ritornare a fargli simpatico Ok, sto facendo una figura di merda Seconda cosa Allora, c'è un utente che mi ha chiesto Fermate questa cazzo di canzone Ok, grazie regia, andate a fare in culo tutti Licenziati Allora, questo piccolo intermezzo è per dire che un utente mi ha chiesto Caro Shen, mi fai un video Se fai un video di Call of Duty e Modern Warfare 3 Insomma, un fragment delle kill Mettendo questa canzone in sottofondo Io non so cosa rispondere Perché la canzone, vabbè È quello che è A certi piacere, a altri no Cosa ne pensate voi? No, perché Una roba di Call of Duty si potrebbe anche fare Ma con una musica del genere Non so se viene sta gran cosa Ba 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 Ok, adesso ho sentito un piccolo stacco audio Sorry Ok, durante questo piccolo decimo di secondi di attesa Ho dovuto Uno, bloccare il cane che stava bagliando Due, aprire la porta ai miei genitori Tre, prendere una cazzo di caramellina per la gola Ok, detto anche il secondo punto è quello di la canzone Ditemi voi cosa ne pensate Io non commento Devo chiedervi una cosetta Allora, visto che non sono ancora in pieno delle mie forze Per fare un video decente Visto che farei video tossendo ogni Fate di nuovo 30 secondi Per un breve periodo di tempo Vi beccherete soltanto video di Portal 2 E di una roba che ho fatto con Minecraft E siamo a tre volte a tossisco Che ho fatto sempre in questo stato qui Cercando di parlare il meno possibile Infatti sentirete la maggior parte delle volte Parlare quelli Di un team di Minecraft che per ora non vi rivelo Sono, diciamo, collaboratori Barra amici Barra Sintesi rapida Come sapete Io ho interrotto Fallout 3 Tempo fa E adesso voglio chiedere a voi The Legend of Zelda Quello di Adventurecraft E Assassin's Creed Volete che li mando avanti? Perché? Se dite sì Mandare avanti Anche gli altri progetti Diventerà più faticoso Un attimo più lunga la cosa Quindi ci vorrà più tempo Se dite no Posso interrompere momentaneamente questi Let's play E concentrarmi tipo su Dark Messiah Portal l'ho già finito come sapete E anche Elseworld Che francamente Come avete capito Quel gioco mi piace assai Quindi ditemi un po' voi Cosa preferite Se volete che mi concentro ultimamente Su caricare Portal 2 Elseworld o Dark Messiah Oppure lascio da parte momentaneamente Dark Messiah E mi concentro su Adventurecraft e Assassin's Creed Scegliete un po' voi Cosa volete Però la nuova let's play Finchè non finisco Dark Messiah Non è inizio Quindi vi ho avvisato Quindi ditemi cosa ne pensate A presto video di Minecraft A presto video di Portal E scegliete un po' cosa voi Cosa volete Che mi concentri a fare Con questo ho detto tutto E ci vediamo Al prossimo video Aggiornamento Barra chissà Ciao ciao Ciao